L'evento conclusivo del progetto della questura di Lecce dire fare cambiare la legalità responsabile qui nella suggestiva cornice di Piazza Duomo la banda della Polizia di Stato e tanti ospiti. E' una serata molto importante per diverse ragioni perché in una splendida cornice avremo la possibilità di partecipare al momento di festa della Polizia che è l'occasione anche per sottolinearne il ruolo, l'azione, l'efficacia e anche per esprimere un ringraziamento nei confronti dei servitori dello Stato che ogni giorno, 24 ore al giorno garantiscono la sicurezza sul territorio di ogni cittadino. E avviene un momento particolare, quale è quello di queste ore, nelle quali il messaggio di legalità forte sul nostro territorio penso che sia quanto mai opportuno. Presenti all'evento il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, il capo della Polizia Vittorio Pisani e tutte le autorità tra cui il sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone e gli onori di casa del questore Massimo Modeo. Sul palco anche molti artisti locali tra cui Raffaele Casarano, Antonio Castrignano, Bungaro che si sono esibiti, madrina d'eccezione della serata Maria Grazia Cucinotta. Io non ho paura Io non ho paura Io non ho paura Io non ho paura